ci ritroviamo in compagnia di martina attili ciao bentrovata sui music fan martina io inaugurerei questa nostra chiacchierata partendo chiaramente dal tuo nuovo singolo intitolato malinconia cosa rappresentano esattamente per te questa canzone e questo ritorno sulla scena musicale allora questa canzone diciamo è stata scelta tra le tante proprio perché involontariamente c'erano dei riferimenti a chierofobia per esempio il fatto che qua dico che non guarderò un film mentre in io dicevo che sarei rimasta a guardarlo e quindi mi sembrava un modo per ripresentarmi che però fosse un po più semplice per le persone da capire in quanto comunque riescono in qualche modo a trovare un collegamento con quello che sono stata tempo fa ecco e malinconia è stata composta interamente da te e mi piace sottolineare questa cosa quindi sia la parte musicale che testuale e si avvale di un trio valido di producer davide gobello pio e ddr e ti chiedo come è stato lavorare con loro e che tipo di lavoro c'è stato proprio sulla ricerca del sound allora io sono molto sincera nel senso che scrivendo cantando e suonando poi ho proprio un limite sull'arrangiamento nel senso che le farei tutte allo stesso modo tutte acustiche dicendo che la referenza è sempre sanremo quindi un sacco di archi e cose varie quindi ovviamente questa cosa non va bene e mi sono molto affidata nel senso che poi ovviamente ognuno vuole mettere il suo e infatti abbiamo dovuto trovare dei compromessi per esempio il primo ritornello è fatto come l'avevo scritto io mentre il secondo ritornello con tutte le armonie lo ha voluto davide e quindi ci siamo smezzati delle cose e mi sono affidata cioè io non so quello che mi piace ma so perfettamente quello che non mi piace e questa cosa mi piaceva e quindi dai e a livello testuale martina il brano racconta di una relazione non vissuta in quella situazione che più o meno in cui più o meno siamo finiti tutti quando ci piace qualcuno intuiamo che la cosa può essere reciproca ma nessuno dei due riesce a fare quel maledetto primo passo quali pensieri quali riflessioni hanno ispirato il tema di questa canzone ma c'è nel senso come ogni canzone l'ho scritta un po' per necessità mia di comprendere in primis le mie emozioni e di dire ad alta voce quello che mi stava accadendo quindi è la letterale descrizione di quello che stavo vivendo e in questo processo di riflessione cosa pensi di aver capito ma niente comunque è un testo che è fatto solamente di domande e che non ha delle risposte al suo interno perché quelle risposte là non non me le posso dare io ok il tempo di molte cose le risposte ce le dà proprio il tempo veniamo invece all'interpretazione molto toccante che hai restituito al pezzo che tipo di lavoro c'è stato dietro appunto l'utilizzo della voce e com'è cambiato appunto in questi anni il tuo modo di interpretare perché ascoltando malinconia si nota un'evoluzione hai trovato un cambiamento? sì una maturità ok sicuramente ho continuato a studiare canto quindi sono felice che insomma le lezioni abbiano dato il loro frutto comunque davvero quello che faccio è molto meno pensato di quello che sembra nel senso che mi rendo conto anch'io che ci siano magari dei passaggi in voce di testa ci sia un po' qualsiasi registro in questa canzone ma non è perché volessi dimostrare la gente che avevo imparato a cantare cioè perché evidentemente diciamo lasciandomi trasportare sono arrivata a quella cosa là no ma sicuramente poi il bello delle interviste è questo che è tipo una seduta di analisi no? molto spesso le cose sono più naturali di quello che sembrano però dobbiamo chiaramente approfondirle certo sempre a proposito di questo discorso legato all'interpretazione credi che questa crescita comunque se non la vuoi chiamare evoluzione comunque una crescita c'è stata si debba anche alle esperienze teatrali collaterali che hai avuto in questi anni? certo cioè nel senso ovviamente il musical ti dà proprio una formazione molto più rigida tra virgolette nel senso che tu devi cantare, ballare e recitare insieme e lo devi fare per tre ore e quindi soprattutto quest'anno io ho notato proprio ho scoperto ancora più cose della mia voce ho raggiunto note che non pensavo fossero nel mio registro e quindi sì, ti direi di sì nel senso che è un altro modo di cantare quindi fa sempre bene assolutamente sempre a proposito del rapporto che hai con la tua voce cosa rappresenta per te questo strumento e in che modo ti prendi cura della tua voce? come mi rendo cura proprio i geni vocali dici? sì 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 allora io sono molto attenta in realtà a questa cosa qua prima dei concerti divento straseria e quindi non bevo, non mangio pomodori tutte le cose che portano acidità quindi assolutamente oddio ecco ho messo la sveglia il ritardo allora quindi questo cosa rappresenta per me? la mia voce in realtà è solamente un mezzo nel senso che io non sono mai stata una grandissima fan della mia voce non penso che in una gara tra cantanti potrei davvero vincere perché ritengo che sia un po' l'insieme di tutte le cose c'è la scrittura e la personalità e il piano perché rimane sempre il piano e quindi è solamente un tramite per poi far arrivare quello che voglio davvero dire come dicevamo prima malinconia può rappresentare un'evoluzione nel tuo percorso ma per altri versi anche una specie di ritorno al passato come ci anticipavi all'inizio se pensiamo a Chirofobia il pezzo appunto che ti ha consacrato che parlava della paura di essere felici ci hai fatto conoscere questo termine a molti Chirofobia che era sconosciuto fino a quel momento ecco in questa nuova canzone racconti invece di un'altra paura quella di lasciarsi andare in una relazione amorosa è un po' la chiusura di un cerchio per te visto i rimandi e i richiami tra le due canzoni beh spero di non finire in altre situazioni tutti uguali da qui altri sei anni fare una canzone simile a malinconia spero di aver imparato le mie lezioni ecco da paura di lasciarsi andare cioè nel senso più ovviamente è una canzone che automaticamente coinvolge due persone perciò ritengo che quella con la paura di lasciarsi andare non fossi io io ero quella con la paura di lasciare andare l'altra persona cioè io appunto come dice la canzone era fingere 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 solo per partire e stare perché io non sapevo lasciare andare l'altro e l'altro non sapeva lasciarsi andare ok chiarissimo tutto chiaro e nel corso nel corso degli anni hai avuto modo di confrontarti con altre voci e con altri artisti ultimo in ordine della lista è Michelangelo Vizzini con cui lo scorso anno hai realizzato Amore Eterno ma ricordo anche un bel duetto del 2019 con Mr. Rain la canzone La Somma vi intervistai in quell'occasione qui a Milano ecco cosa pensi di aver imparato da questi incontri e se ci sono dei nomi di artisti con cui ti piacerebbe confrontarti in futuro ma allora cioè io voglio stra bene a queste persone però è palese il fatto che io non sappia collaborare con la gente nel senso che soffro tantissimo inizio sociale odio avere il giudizio degli altri se mi metti in una stanza a scrivere con qualcuno probabilmente non lo farò mai e se invece mi dai il compitino e mi dici Marti ti voglio in questa canzone scrivi una barra nella tranquillità di casa tua allora lo farò ho imparato tanto ma cioè poi alla fine sono delle persone che pur facendo la stessa cosa in realtà hanno un modo diverso di farla quindi è sempre bello scoprire come la gente applica la stessa cosa in modo diverso però poi a parte prendere magari la loro disciplina e il loro amore per quello che fanno non è che davvero io possa trasporre quello che ho imparato da loro nel mio perché quello rimarrà sempre mio forse se avessi fatto non lo so un detto con una persona più simile a me a livello di cantautorato non lo so avrei fatto un discorso diverso quindi per rispondere alla seconda domanda tipo con chi ti piacerebbe collaborare con Bruno Risas perché penso che a quel punto potrei rubargli invece qualsiasi cosa ok 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 sempre a proposito appunto di questa seduta di psicanalisi stiamo volgendo quasi alla fine dell'ora di seduta mi incuriosisce a chiederti perché io allora nel tuo modo di fare c'è un alone di incertezza ma io noto invece nelle tue parole una chiara visione cioè tu sai quello che vuoi chiaramente quindi a questo punto del tuo percorso se dovessi chiederti quali pensi siano i tuoi punti di forza e quali invece i punti su cui c'è ancora da lavorare cosa mi risponderesti allora i miei punti di forza e cioè in senso i primi che comunque mi fanno stare ancora qua vuol dire che io sono davvero convinta di quello che ho scelto di fare e che però ho imparato che in realtà posso anche ascoltare altre persone cioè che non è che ascoltare il parere altrui mi renda meno convinta del mio progetto anzi quando una persona è così focalizzata in realtà vede solamente una cosa e quando io ci sono in realtà tante altre visioni e quindi ascoltare gli altri ti aiuta anche a migliorare il progetto e a capire dove mandarlo in un modo che possa diventare universale cioè che tutti lo possano capire e non soltanto io quindi diciamo la determinazione insieme al fatto che sono diventata diciamo più disposta ad accettare i consigli penso che sia una grande unione in questo momento della mia vita io ritengo comunque che nel mio essere completamente a disagio in ogni situazione in realtà questa sia una cosa così caratteristica che forse è il mio principale punto di forza per davvero nel senso che almeno vedo una persona a disagio e dici ah quella è mattina a tigli e quindi è un mio segno di riconoscimento su cosa altro devo lavorare possibilmente tantissime cose anche ma cioè non solo a livello personale proprio a livello di artista probabilmente davvero devo uscire dal fatto che non tutte le canzoni possono essere raggiate con un'orchestra di archi però è che non posso pensare che la musica che si faceva negli anni settanta possa essere riprodotta adesso se uno vuole davvero arrivare a un certo tipo di pubblico ma spero comunque di trovare un compromesso tra le due cose ma sicuramente lo troverai e per concludere Martina tu hai iniziato da giovanissima e sei tuttora giovanissima anche se un po' di esperienza alle spalle ce l'hai no 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 sei giovanissima piantala lasciatelo dire per questo vorrei concludere questa intervista chiedendoti un tuo bilancio del tuo percorso finora ma non è un bilancio fantastico nel senso che in realtà tu c'è vabbè da adolescente come penso tutti gli adolescenti ero estremamente arrabbiata e quella rabbia mi ha portato anche a fare delle cose a livello pubblico di cui adesso mi vergogno un sacco perché in realtà è vero che determinate cose assumono un significato con il tempo quindi spero di essere un po' maturata e di essermi data una calmata nel senso che comunque prima esponevo tutto quello che facevo della mia vita sui social invece ho imparato l'importanza di avere una vita privata e di quanto io tenga a rimanere riservata su determinate cose nonostante quello che è successo io penso comunque di essermela cavata abbastanza bene facendo altre cose che però non sono delle cose diverse cioè non sono delle cose che non avrei fatto le avrei fatte lo stesso solo che magari è risultato come una tappa a buchi quando invece doveva risultare l'insieme di un percorso più grande però sono sicurata da adesso in poi cioè tutto avrà il suo posto e quindi tutto avrà un senso diverso ringrazio Martina Attili per essere stata con noi grazie davvero e alla prossima seduta di terapia non facciamo passare troppo tempo altrimenti tutto il lavoro fatto oggi e fatto finora si vanifica grazie Martina alla prossima ciao grazie a te ciao